ciao a tutti ragazzi qui stefano come sempre benvenuti sul mio canale in questo nuovo video che sarà scommetto molto interessante se anche tu sei un fotografo e non vuoi perderti i miei video riguardanti il marketing fotografico mi raccomando iscriviti al canale attiva la campanella e accedi al nostro gruppo facebook lascio il link in descrizione perché tra qualche giorno inizieremo a fare delle live tematiche molto interessanti adesso subito partiamo con un estratto di una delle mie ultime consulenze e quindi vi faccio sentire un estratto di questa consulenza strategica con questo fotografo che sto seguendo lo faccio per due motivi prima di tutto per darvi prova concreta del fatto che sì è vero faccio consulenze marketing per fotografi e quindi è giusto reputo giusto comunque professionalmente darvene prova qui sul canale facendovi anche vedere degli estratti quando posso delle mie consulenze e di quello che faccio io per aiutare i fotografi e poi lo faccio perché durante questa consulenza abbiamo trattato in parte questo argomento specifico di cui parlo nel video di oggi ossia come faccio senza lo studio a essere percepito come uno di quei fotografi che magari fotografa da tanti anni ha lo studio e quindi ragazzi vi faccio ascoltare subito questo piccolo estratto della consulenza così capite bene di cosa abbiamo parlato e poi andiamo ad affrontare il discorso in maniera specifica quindi vi faccio partire l'estratto della consulenza e poi ne parliamo insieme questa è una cosa che a me fa un po' paura Tino la verità a me fa un po' paura perché almeno qui in zona il fotografo che tutti scelgono i fotografi che vengono scelti per i matrimoni hanno tutti uno studio vanno lì a vedere le foto provini album ma tu guarda il fattore dello studio se proprio devi parlarne o spiegare devi farlo passare come una cosa negativa cioè nel senso noi che non abbiamo lo studio devi far capire al cliente che il fotografo che ha lo studio è più limitato di noi perché noi senza studio non abbiamo orari non abbiamo luoghi fissi in cui obbligare il cliente a venire non c'è il rischio poi di fotografi di matrimonio quanti ce ne è qua da me che poi mettono il cartellino con sito occupato per servizi allora è inutile che c'hai lo studio se poi non ci sei tante cose negative ce l'hanno anche lo studio capito poi è una questione di come sei percepito nel senso io lavorando online tutto il mio sistema online è fatto in modo e maniera che quando poi il cliente viene in appuntamento già deve aver deciso io poi non sono bravo come puoi essere tu nella vendita sono sincero io sono bravo prima nel senso quando il cliente viene da me ci incontriamo ha già deciso se acquistare o meno il servizio e quella è la cosa più importante nel senso la vendita quando avviene prima è sempre meglio se il cliente ha già deciso io quindi particolari problemi non ne ho mai avuti e poi ho delle buone recensioni quindi uno prima ha visto le recensioni gli arrivano le mie mail dove vede i miei lavori e tutto quindi bene o male la questione dello studio passa in secondo piano secondo piano ecco ragazzi avete sentito come questo fotografo di cui mi è stato chiesto di non fare il nome che però mi ha gentilmente concesso di farvi ascoltare degli estratti delle nostre consulenze ecco questo fotografo mi ha espresso il suo problema relativo al fatto che ha paura a proporsi a dei clienti per quanto riguarda il fatto che non ha uno studio ok bene se mi seguite sapete che appunto io sono un fotografo oltre che consulente marketing proprio per fotografi quindi tutto ciò che consiglio di fare è personalmente testato su di me io sono un fotografo senza studio che basa la sua attività, il suo business completamente online quindi anche io non ho uno studio e quindi cerchiamo di analizzare questa questione questo fotografo ha paura di essere percepito nella maniera sbagliata di non riuscire magari a vendere alle solite cifre e a lavorare allo stesso modo in cui lavorano quei fotografi magari già affermati e che hanno studio da anni questo fotografo sta iniziando la sua attività quindi ha collaborato alla partita IVA ha collaborato come freelance però adesso vuole iniziare a guadagnare bene con la fotografia di matrimonio quindi questi sono consigli specifici per fotografi di matrimonio attenzione e vuole guadagnare bene in autonomia e quindi ho iniziato a seguirlo anche per questo per aiutarlo a iniziare e per aiutarlo a iniziare nel migliore dei modi pur non avendo uno studio fotografico piccola parentesi io non ce l'ho assolutamente con chi ha lo studio quindi esistono consigli specifici per chi ha lo studio esistono consigli specifici per chi non ha lo studio io personalmente non avendo lo studio e lavorando prettamente online so dare consigli mirati e specifici per chi vuole lavorare senza studio quindi per chi vuole lavorare essenzialmente da casa e quindi non ce l'ho assolutamente con chi ha lo studio io consiglio semplicemente di non avere uno studio perché non è quello il fattore non è quello che fa la differenza oggi ma andiamo avanti analizziamo punto per punto tutti i consigli che oggi voglio darvi in questo video allora la prima questione è relativa al mindset perché ricordiamoci sempre che praticamente per ogni cosa soprattutto nel marketing e nel business il mindset quindi la mentalità quello che pensiamo i nostri pensieri vanno a influire le nostre azioni e quindi poi anche come ci comportiamo e tutto quanto quindi il mindset anche nella questione di avere e non avere uno studio è una questione molto importante infatti bisogna mettersi in testa se volete agire senza studio volete guadagnare bene lavorare senza uno studio fotografico voi dovete mettervi in testa che lo studio non è sempre una cosa positiva quindi dovete disfarvi di tutti quei paradigmi e tutte quelle convinzioni sbagliate errate quindi ricordatevi che l'avere lo studio comporta delle cose positive e negative dei pro e dei contro così come non averlo non è che avere lo studio è sempre positivo e non avere uno studio è sempre negativo anzi quindi mettetevi bene in testa che il fatto di non avere uno studio non è una cosa penalizzante ma è una cosa vantaggiosa quindi vi ripeto il concetto perché è molto importante se avete uno studio allora voi a livello di mindset dovete installarvi nel cervello il paradigma per il quale quindi la convinzione per la quale avere lo studio è meglio che non avere lo studio ok? se volete agire lavorare con lo studio cosa che non consiglio di fare però se non siete convinti che il fatto di avere lo studio è una cosa realmente positiva per voi allora lavorerete male al contrario quindi se non avete lo studio voi dovete convincervi che il fatto di non avere lo studio quindi il fatto che voi non abbiate lo studio è una cosa positiva e il fatto di avere uno studio è una cosa negativa quindi è molto importante il mindset perché poi da qui ne conseguono tutta una serie di cose che ora andiamo a vedere quindi mettetevi in testa che incontrarsi al bar non è è dequalificante se si lavora bene prima quindi non è il fatto di incontrarsi al bar piuttosto che in studio la cosa dequalificante non è che se voi siete posizionati bene siete il top della vostra categoria della vostra zona e tutto quanto il cliente vi incontra al bar dice oddio sto qua l'ho visto al bar allora non lo scelgo non c'entra niente oggettivamente non c'entra niente il dove incontrarsi e bisogna lavorare bene prima lo ripeto sempre se non si lavora bene a livello di posizionamento percezione autorevolezza e marketing è inutile stare qui a parlare di è meglio studio o non è meglio studio quindi molto molto importante secondo punto derivante da un mindset giusto è quello che trasmetti cioè tu devi trasmettere ai tuoi clienti le cose giuste attraverso però il mindset giusto quindi sei sicuro di ciò che pensi non devi essere insicuro quindi sei sicuro sei pienamente convinto che il fatto che tu non abbia uno studio è una cosa positiva perché se non sei convinto di questo e sei insicuro quando parli con i clienti ti proponi i tuoi clienti questo verrà percepito da loro la tua insicurezza verrà percepita tu devi essere sicuro al 100% è convinto del fatto che il fatto scusate del fatto che non avere uno studio per te è un vantaggio e quindi devi far capire ai clienti che non hai lo studio per delle solide ragioni specifiche ad esempio se non hai lo studio tu puoi dire che sei più disponibile rispetto a chi ha lo studio perché chi ha lo studio è costretto in un luogo è costretto a degli orari è costretto a far venire i clienti in un luogo prestabilito tu sei più disponibile perché puoi incontrarti al bar vicino a casa del cliente puoi incontrarti addirittura a casa del cliente puoi incontrarti dove vuoi agli orari che vuoi perché tu non dipendi dagli orari dello studio puoi incontrarti la sera la mattina l'ora di pranzo insomma poi questo dipende dalla vostra effettiva disponibilità però il concetto è questo e siete anche più affidabili perché se siete organizzati bene senza uno studio siete più affidabili in quanto quanti ne vedo io per strada studi fotografici magari ma anche banalmente il fatto di essere chiusi per ferie senza magari dirlo ai propri clienti che magari vogliono venire a vedere i vostri lavori e trovano chiuso per ferie oppure la cosa peggiore e che capita più spesso è che magari studio fotografico chiuso con il cartellino davanti con sito chiuso per servizio fotografico perché magari lo studio non riesce a stare dietro scusate il fotografo non riesce a stare dietro allo studio perché è dovuto andare a fare un servizio fotografico ed è inutile che nello studio c'è una persona che non è il fotografo perché voi magari siete andati lì per parlare con il fotografo quindi ci sono tante cose ripeto positive e negative in entrambi i casi se voi non avete lo studio naturalmente dovete abbattere la vostra concorrenza non dico parlandone male ma evidenziando perché è positivo il fatto che voi non avete uno studio spero di non confondermi in tutti questi giri di parole e quindi vi ripeto io non ce l'ho assolutamente con chi ha lo studio analizzo i fatti per come sono è molto importante il fatto che spesso la gente una delle prime domande che fa quando ci contatta è dove hai lo studio quindi il fattore dello studio deve passare in secondo piano se non ce l'avete quindi mi raccomando terzo punto la vendita non esiste cioè non dovete basare il fatto dello studio sulla vendita cioè non deve essere una cosa correlata e poi la vendita non esiste nel senso che ricordatevi sempre che il cliente quando vi incontra non è che decide in base a dove vi state incontrando il cliente deve avere già deciso attraverso un processo strategico di marketing che c'è stato prima di incontrare personalmente il cliente e questo è ciò che cerco di insegnare quindi la vendita non esiste e soprattutto ragazzi non esistono stratagemmi profumi colori le interpretazioni del linguaggio del corpo e cavolate varie per non essere più scortesi perché sottolineo questa cosa perché purtroppo ragazzi ci sono persone che ai corsi di vario tipo ma addirittura i corsi specifici per fotografi insegnano a nello studio devi posizionare bene le poltrone il divano attenzione a come ti poni a cosa metti in mezzo al profumo che c'è nella stanza a cosa ti dicono come ti guardano cosa guardano cioè ragazzi queste cose non esistono non esistono questo tipo di stratagemmi non potete giocarvela tutta solo sulla vendita perché se lavorate male nel marketing potete avere lo studio col profumo più buono del mondo ma il cliente non vi comprerà il servizio quindi non date retta a chi dice queste cose quindi non dovete giocarvela solo sulla vendita ma il cliente in appuntamento deve aver già deciso e lo si fa attraverso una strategia specifica di marketing cose che io poi insegno cerco di insegnare anche e soprattutto nelle mie consulenze ma insomma anche qua su youtube cerco di di fare il mio quarto punto lo studio deve passare in secondo piano l'ho detto prima ribadisco il concetto lo studio non è la cosa più importante e qui vi vado a introdurre un argomento molto importante che magari approfondiremo poi nei prossimi video ossia se il vostro primo incontro con il cliente fosse per un servizio gratuito da proporre come esperienza piuttosto che un appuntamento in studio quindi vi ripeto questo argomento lo affronteremo con la dovuta calma nei prossimi video perché è un argomento molto importante che può farvi fare la svolta quindi il concetto è questo invece di basare sempre la vostra esperienza di vendita su un banale e freddo appuntamento a cui ormai tutti siamo abituati dove mettiamo il nostro cliente a disagio la maggior parte delle volte imparate a pensare invece che un appuntamento a cercare di offrire un'esperienza alla vostra coppia di sposi infatti se voi offrite se voi entrate in contatto con un potenziale cliente invece di offrire un appuntamento potreste offrire una sorta di servizio fotografico di coppia facendo così la vostra esperienza con il cliente e l'esperienza del cliente con voi non sarà basata su un appuntamento dove il cliente si sentirà psicologicamente attaccato dal fatto che voi siete lì per vendere non sarà basato su quello ma sarà basato su un'esperienza che voi offrirete alla vostra coppia di futuri sposi quindi un servizio di coppia gratuito e lo studio in questo caso passerà inevitabilmente in secondo piano quindi se voi offrite un servizio di prova un servizio gratuito dite guarda vi faccio provare il mio servizio almeno decidete almeno potete decidere conoscermi valutare il mio servizio a quel punto il cliente non chiederà più dove è lo studio dove non è lo studio vi vedete per il servizio e quello lì sarà il vostro appuntamento preferite perdere un'ora in un appuntamento che sapete bene che cosa comporta un appuntamento cioè disagi per il cliente un appuntamento freddo non è mai il massimo secondo me un appuntamento poi possiamo avere pareri discordanti su questo preferite perdere un'ora di tempo per un appuntamento o preferite perdere la solita ora di tempo a fare un una mini sessione fotografica di coppia in esterna dove conoscere la coppia e farvi conoscere ragionate su questo concetto perché ci torneremo poi quinto punto i prezzi come non citare i prezzi allora ragazzi il fotografo che sto seguendo ha espresso il suo timore riguardo al fatto di non avere uno studio anche per quanto riguarda poi i prezzi abbiamo parlato anche dei prezzi naturalmente e il fatto di non avere uno studio lo fa sentire come penalizzato anche dal punto di vista dei prezzi come dire io non ho uno studio non posso permettermi di fare i prezzi che fa uno con lo studio anche questo è un paradigma che dovete eliminare una convinzione errata perché vi ripeto non è lo studio che fa il prezzo sono altre le cose quindi i prezzi attenzione ascoltatemi bene dovete alzarli a prescindere sembra un po' brutto da dire però il prezzo è sempre un fattore che aumenta la tua autorevolezza e determina il tuo posizionamento perché questo perché è naturale più un prodotto o un servizio è alto di prezzo più viene psicologicamente considerato come di maggior qualità come di maggior prestigio ok quindi questo vale vale per tutto per tutte le cose se una panda cosa ne so costa 15.000 euro è una macchina economica ok la panda per dire o l'appunto vi faccio per cercare di farvi capire se la panda voi immaginatevi se la panda costasse invece di 15.000 euro 150.000 euro iniziereste a pensare cavolo la panda è un macchinone cioè capito questo fa la differenza a livello proprio di come poi venite percepiti a prescindere dalla qualità quindi alzate i prezzi a prescindere e verrete automaticamente considerati più autorevoli nonostante lo studio averlo non averlo quindi se un cliente è logico che se voi vendete un servizio fotografico per un matrimonio a 6-700 euro e incontrate il cliente al bar come dire venite percepiti come di scarso valore perché scarso è anche il prezzo se invece voi vendete il vostro servizio fotografico a 2000 euro e vi incontrate al bar vi assicuro che il cliente avrà tutta un'altra percezione di voi e vi presterà tutta un'altra attenzione quindi veniamo al punto 6 il posizionamento quindi ragazzi ne parlo spesso se non sei ben posizionato il tuo problema non è lo studio il posizionamento determina come veniamo poi percepiti quindi punto 7 la percezione come sei percepito perché il gioco è sempre tutto sulla percezione non è la realtà è la percezione come venite percepiti dal cliente quindi importante le recensioni importante come venite percepiti prima che il cliente vi incontri quindi bisogna fare una buona prima impressione non durante i primi secondi di un incontro fisico ma la la buona prima impressione va fatta ancora prima di incontrare il cliente quindi ragazzi per questo concetto è tutto spero che il video sia stato interessante iscriviti al canale mi raccomando entra all'interno del nostro gruppo facebook per non perderti le live tematiche che faremo prossimamente da stefano è tutto ci vediamo al prossimo video ciao